un padrone di casa non deve mai insistere perché l'ospite beva anche solo un calice di bollicine può avere dei motivi di salute molto seri per non farlo però c'è un'occasione in cui è proibito essere a stemi sapete qual è quella del brindisi alzare il calice alla salute di una persona è un gesto anti scaramantico quindi se non lo facciamo rischiamo di vedere male interpretato il nostro gesto come fare allora facciamo finta appoggiamo le labbra sul bicchiere e facciamo finta di bere però ricordiamoci che se non è una questione di salute un sorso di bollicine con un minimo di alcol dà un massimo di allegria vale la pena provare grazie a tutti